La proroga per mettersi in regola con i vaccini è scaduta anche in Veneto il 30 aprile, ma nonostante si ipotizzino circa 21.000 minori ancora completamente scoperti, non ci sono state ad oggi vere esclusioni degli inadempienti da scuole e asili. A Padova per esempio la preside dell'Istituto Comprensivo Donatello ha chiesto a tre famiglie di tenere a casa dei prossimi giorni i figli non ancora vaccinati. Non si sarebbe di fronte però ad una chiara opzione anti-vaccini da parte delle famiglie, ma di un ritardo nella prenotazione dell'appuntamento chiesto all'USL. La preside ha già detto alle famiglie che i figli potranno rientrare quando sarà pronta la documentazione richiesta. Spostandosi nel veneziano sono 1.200 i bambini fino a 6 anni che sul territorio di competenza dell'USL 3 serenissima non sono ancora in regola con l'obbligo vaccinale. A settembre erano 1.400 ma la somma si è ridotta dopo gli inviti rivolti dal servizio vaccinale alle famiglie ancora non aderenti alle norme previste dal decreto Lorenzin. Una situazione che dall'agosto scorso ha visto crescere gli attriti fra famiglie e scuole con contrasti e incompressioni, qui si sono aggiunte varie modifiche o slittamenti temporali delle verifiche creando spesso ancora più confusione. Difficile dunque in ogni caso la posizione dei dirigenti costretti a prendersi delle responsabilità che, in un caso o nell'altro, potrebbero determinare situazioni difficili e di difficile gestione.